Ma tutto è possibile, basta metterci una grande volontà. Ci vuole tanta tanta passione, ci vuole una grande costanza. Naturalmente ci vuole delle cose che non si possono né studiare né acquistare. Ci sono la sensibilità, il talento, la passione e l'amore per questo mestiere. O ce l'hai o ce l'hai. Poi ci sono delle cose che si possono invece imparare e che troveremo indispensabili per farlo. Ma tutto è possibile, basta metterci una grande volontà.